Musica Potente appara ragazzi, qua è Max e oggi, oh my god, oggi sono tornato e sono qui a presentarvi un nuovo video Però, prima di iniziare ho tantissime cose da dirvi Allora, per prima cosa, come sempre, per iniziare volevo ricordare di passare da OneFIFA.com Se siete interessati a comprare i crediti di Fifa e mi raccomando utilizzate il codice AxelCon2 come discount code E poi un piccolo consiglio che vi voglio dare, ora non ho la certezza assoluta ma secondo me è meglio prendere ora i crediti per poi andarli ad utilizzare durante l'uscita del Team of the Year Che fare il contrario, poiché infatti i prezzi rischiano di alzarsi assai Quindi, piccolo consiglio, andate a prenderli e utilizzate il codice AxelCon2 come discount code Successivamente vi voglio dire una piccola cosa Questo qua sarà un video particolare, un video non di una serie o di qualcos'altro Pensi un video nella quale voglio darvi la possibilità di ottenere dei crediti Poiché infatti durante il Team of the Year i crediti serviranno Serviranno per comprare giocatori e serviranno per spacchettare Quindi, cosa andremo a fare oggi? Oggi andrò a disputare una o due partite E in queste partite ogni gol che subirò varrà 100.000 crediti per voi Quindi voi dovrete sperare che io subisca più gol possibili Come partecipare a questa sorta di contest basterà essere iscritti al mio canale Aver messo mi piace a questo video ed essere iscritti ai commenti cosa sto per dire Ed aver commentato questo video L'estrazione di questo contest verrà fatta lunedì Poi che appunto sarà lunedì che il Team of the Year usciranno Un'altra cosa che vi voglio dire è che in questi giorni o meglio in queste vacanze Anzi in quest'ultimo mese sono stato molto ma molto poco attivo Questo perché avevo un macello di cose da fare Gli avrò da fare anche in questo mese Ma in testa proprio c'è questa sorta di pausa che mi è servita Mi sono riorganizzato le idee So come organizzarmi meglio Quindi aspettatemi moltissimi video Piccolo spoiler che vi faccio settimana prossima Ogni giorno o ogni due giorni uscirà un park opening Perché noi dovremo trovare almeno due Non dico uno ma bensì Anche se mamma e se lo si dice almeno due Team of the Year E ragazzi detto questo ho quasi detto tutto Non ho ancora finito perché infatti farò anche in questa settimana O meglio credo domenica o addirittura già domani Un video di ringraziamento per un traguardo che ho raggiunto Non ne voglio parlare adesso perché ne parlerò in un video più lungo domani dopo domani Però aspettatemi anche quel video E detto questo ragazzi siamo prontissimi per partire Andiamo a cercare il primo sfidante Facciamo gioca Primo sfidante di oggi giovanissimi a Oh mio dio 4-3-3 serie A D'argento Quindi cosa fantastica Quel duvan zapata mi fa abbastanza paura Però noi cercheremo di vincere Anche se so che voi state gufando perché volete i crediti E siamo partiti La passa indietro Cosa vuole fare Questa mente perversa rimette già in pausa Oh non gioco praticamente da due settimane perché ho fatto lo squad builder e non accendevo da una settimana E questo già mi fa arrabbiare Oh Cristo Metti Gioca E si è fatto Autogol Si è fatto l'autogol Non pensavo di dovervi già qualche credito E non va bene affatto sta cosa Grande arte Bravo l'h7 Ottimo 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 le scatta 1 Ottimo le puntate 2 Mi scatta Tutti e tre Madonna Cosa stava per fare la casetta La casetta Non c'è La casotto La casetta La casa Ottimo 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 Lo scatta anche il portiere 2 a 0 Al trentacinquesimo Si così Incredibile punizione per noi Ma vuemba Oh signore che parata E ragazzi il nostro primo avversario quitta al quarantacinquesimo Quindi prima partita vinta Andiamo a farne un'altra E se siamo siamo pronti anche per questa seconda partita Ho la voce stranasale Anzi no Nazzucchero E vediamo La mostarda Azz Questa è dura Questa è dura si Ed è già uscito Ma perché Bravo Musa Che lo salta Palo gol Ci portiamo in vantaggio al dodicesimo Oh Crispio Adebayor Contro Hart E Adebayor segna Quindi in questo momento Io vi devo 100.000 crediti E ce li scarta di nuovo tutti Oh Crispio No Ti prego Fermatelo 2 a 1 Vi devo 200.000 Porca vacca Dai ora però non possiamo perdere Almeno non perdiamo E questo Mi tranc- Oh la rigore E ho sbagliato E c'hai gol invece 2 a 2 Andiamo a vincere Ma porca miseria No No 300.000 Sono tanti Non li ho nemmeno Dovrò comprarli Ma ci siamo No Oh signore Vai Dai Lancialo fuori gioco Lascialo all'altro Bellus Yeah Jim Yeah Jim Oh cos'è Non ci vedo Ha fatto 3 tiri 3 gol 300.000 300.000 300.000 Crediti Sono tanti Chi è sto qua Ma che controllo è No 4 no 4 sono troppi Mamma mia Dai l'hai fatto una volta Basta Oh 4 Sì ma guarda Ma state scherzando In 4 E andranno a saltare lì Sì Vabbè Questa è una di quelle partite In cui FIFA vuole che io perda Ma non scherziamo Ma non scherziamo Non scherziamo Cos'è sta roba Se ci sei Il portiere vale 3 Il portiere vale 3 No è finita C'è Ma non ne perdiamo mai una Perdiamo oggi Dio santo E ragazzi Ragazzi Abbiamo perso Che palle Comunque Detto questo Fatemi cambiare un attimo Le regole L'estrazione Non c'è Perché bruciarmi 400.000 Così Non mi va bene Comunque L'estrazione Facciamo che sarà Il 18 Perché tanto poi Lasceranno per almeno 3 giorni Da quel che hanno fatto L'anno scorso Altri Appunto Team of the year Quindi Il 18 Farò l'estrazione Di questi 400.000 Crediti Se volete partecipare Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi E commentate Detto questo Io vi saluto E vi dico Potenta Pazio Nel prossimo video Ciao a tutti Ma porco Giuda Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti